Ben ritrovati, siamo nel comune di Albanelle, in particolare siamo nella frazione rurale di Bosco. Qui ci hanno segnalato la presenza di un ordigno bellico molto probabilmente risalente al secondo conflitto mondiale e si tratterebbe di una bomba, come potete vedere qui alle mie spalle, tutta quanta l'aria è stata recintata. Il rinvenimento è stato fatto in modo accidentale oggi pomeriggio dalla proprietaria di questo terreno. Vedete qui abbiamo anche dei resti di potatura, quindi probabilmente stavano effettuando dei lavori di potatura della pianta e di scavo proprio sotto la pianta quando è spuntato questo ordigno. Ora la proprietaria di questo terreno, che vi ripeto siamo nella frazione di Bosco, ha subito e immediatamente contattato i carabinieri. I carabinieri si sono portati sul posto, tutta quanta l'aria come potete vedere è stata recintata e messa in sicurezza ed ora, come è successo per tanti altri casi di ritrovamento accidentale di questi ordigni, dovranno intervenire gli artificieri per poter procedere alla messa in sicurezza dell'aria e al disinnesco dell'ordigno.